E quindi a questo punto io dico le primarie non mi sembrano più all'ordine del giorno, la forgia è sul campo, nessuno ci ha detto un elemento per cui non va bene, noi riteniamo di dover rafforzare la candidatura di Rafforgia, invitiamo tutte le forze politiche e civiche a riflettere sulla possibilità di convergere sulla forgia in modo unitario, senza dividerci. Così oggi chiedo alle altre forze politiche di mantenere questo spirito unitario, di valutare approfonditamente la candidatura di Rafforgia e di procedere in modo unitario perché la sfida che qui ci attende su Bari è una sfida importante per Bari, per la Puglia e per l'Italia.